musica così che spari in gioco perfetto, non so ce n'ho 7 io, al massimo ce la facciamo per strada vabbè, la faccio io ora, tanto qui ce n'ho abbastanza di legno il mio questo comitino qui sotto che tanto non serve niente ottimo di pennelli da te mi faccio solo degli stecchi lì carbone ce l'ho ma io sono pronto si va nella caverna diata allora ok vale, fin da che madonna aspetta un attimo che vedi? niente, niente che vedi? niente, niente che vedi ce n'è? non è un accidente ma che ce l'hai? troppo... mi fa che ha combinato niente ma che es tu? dove minchia sei? nelle caverna ma se vedo tutto buio mi ricordo tempo fa ci stavano le luce, erano certo ecco ehm quant'è se andavo troppo giù mi sono ehm era come il torno ragazzo ehm non ti sento sento sportare sono rimasti indietro e vedete aspetta aspetta ma te si andavo nelle cavernone si sono andato in quello nostro nel cavernone con lo grosso dove c'è quello giù eh no, vieni, sali e se mi dici nulla guarda, sono tu ridi calma, si fa tutto e poi ci si perde ehm mi ricordo l'altra volta che ho dovuto fare almeno su e giù 4 volte prima di riuscire ad uscire quindi ho fatto un'altra no una freccia ma dove sei? si dove sei ah, sono troppo sopra aspetta che qui ci pianta una luce se non si vede un cazzo oh, sono qui, sono qui sopra dove sopra qui ma smettere di colpirmi non ci sto colpendo ragazzi oi sono dietro anche oh non so se sei la città è trasporto aspetta che oh, sono freddo, sono freddo oh che cazzo ah, ok 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 vedo un cazzo vedo un cazzo la luce è un falluce oh, creeper del cazzo creeper 2 creeper neanche uno ragazzi eh 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 sono un tantino nella meta aspettate un attimo oh oh la c'è l'altro dietro no oh 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 aspetta, la fa il tt a cosa ma vai con me cosa ah 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 te che la fascia avevi e il piccolo no 2 ma dove siete io io se tutto il tempo dentro pure io come al panorama da dentro pure che bello come alla mia spada è giusto no che voglio morano non so il ballare attivate i piccoli tuoi ritorno ma ci non poi anch'io che potevo ci sta buttando tax casco quando non le viste al lito attacchi con altri strato posti per l'inverno neanche qualcuno mi dà una mano perchè devi fare cittadini attacco. risotto e' ferma no perché non sono pronti per eliminare io direi per il video tutto punto oggi un cuore per il prezzo di euro macchina mangiare biscotti vettigli scoppi marcia 40. il suo vento il disco gioco c'è anche l'ho visto tanto inizia quindi poco ma la finisce se ci sia stata la cp parlo tiziano non è più così in piedi consiglio per le carote d'oro l'ultimo e ci fai anche le cose che si chiamano questo non è dispensabile anche perché lo può avere tramite i maiali del dente si asciati molto di più i maiali del dnc certo ma non è sostituibile tipo il ferro senza di quello che fa un po' di cose perchè senza il loro come minerali puoi vivere benissimo beh chi è che sei sbriciolato con il creeper io ma tanto la maia oggi si va creeper si va creeper dopo un pochino di quest'acqua qui che è che mi sta subruccando c'è qualcuna chance che si può sfruttare per tirarla sulla lava eh si può tirarla sulla lava per farci la freestyle però faccio la pino d'acqua io faccio la strada vai aia e si piccolate però sa che era un diamante vera la lava che era vabbè qui e qua siamo a livello ventidue potremmo scendere stavamo ancora da dove arriviamo vabbè vabbè è un po' più strano che mi casca davanti e marcraft che si diverte a fare le dighe come i castori vabbè io lì l'acqua l'avevo tappata ma continua a cadere vabbè è tutto regolare vabbè fai devo scendere e perchè scendere devi scendere e scavi in alto vabbè eh c'è il ferro e dov'è che ci immergiamo nella nostra avventura nel sottotitolo ok ciao ciao mamma eh no 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 non confondiamo ah c'è un'altra amm per me abbandonata io ho scoperto come vedete il mio amore il mio amore ho fatto sopra scoperto un po' un po' un po' un sacco non ispira spuntano i suoi ma è non dov'essere ma perchè non cazzo di luce anche se l'acqua l'acqua di città io ho buoni c'è se ne vuoi no cazzo un uomo allele spodono sempre ma secondo me era una volta che ricevo ora non vedo un cazzo e quindi la del baccata che non c'è che non c'è pura mondo se scusa ma sto qui sopra sta arrivando un po' in piedi un po' in piedi un po' in un po' sopra questa roba legna ma cast poi ci sono delle cesture se tra le cose si chiamano insieme di ad anguria e magari sarò un po' sopra non c'è niente se non c'è niente se non c'è niente ma se stava un paesano rispuffa tutta la roba ok ragazzi ma non c'è niente che c'è niente su giu che cazzo dici su i binari si lasciano qui non c'è niente non c'è niente qui c'è niente ma stavola la mia io dirò il 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 inizio questo mondo un po' di merda pura ha il potere e come c'è che non ha risalto se di far crescere i biscotti sulla pietra e comunque è il mio mio di merda non c'è niente ragazzi è venuto bene a me sono qui un po' di merda ti fa venire un dubbio che non c'è se no c'è un buco ragazzi sono un fottuto genio si è già che l'altro faccio della roma oh però ti ho dei funghi che riescono sulla pietra non male beh per forza posto che c'è troppo si ma si vuole il primo questo è il primo giro sinistro certo intanto non si sta trovando una scelta di nulla ma qual'era una cosa poverissima a cristo dato una scelta con chi è tutto si guarda me c'è passato montico assolutamente è passata ha detto più a tutto io perchè voglio riuscire via se a fine video dovremmo fare una morale di questa registrazione non abbiamo trovato un cazzo fine della morale ecco e sono cazzo risolto tipo l'obiettivo è trovare 10 diamanti parti armature complete così invece no abbiamo trovato 10 di ferro in tutto e basta ragazzi ho trovato un altro pezzo di cosa la scorsa attualmente sono tanti di oh monster spawner cazzo io aiutare di questi ragnetti qui beh è bello sto pipistrella appesare l'incontrario io sto a far piano solamente di carbone trovo tutto a trattare qui è è buono sempre quello che è no i ragnetti di merda ahhh schifo io sono arachenofobico come? io sono arachenofobico a favore di ragno ma nella realtà o no? no nella realtà fai il prossimo minecraft non hai punto sta paura alla fine minecraft ti aiuterà a superare la paura eh no usi già così io ho trovato una cascatina però non so se è fidata no in più sono c'ho un piccolo vado ok andiamo qui giù esploriamo sempre più giù giù per il culo ed è ben da me ehm se mai lì in tutti sto sto scendendo con un picchi strano che sta facendo il bagno e in più non ho trovato un mele oh ragazzi ho trovato delle scale che vanno senti più giù delle canne delle scale passa 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 ok no io le porto giù e mi fanno cadere io ho in tutto 27 di secolo qua e' un giro e' un'altra cosa c'è stato di sotto e' un gi si quanti 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 ovviamente scherzavo il palco a fa' un'altra ma fa' più c'è il mio il mio alzappate le pietre il mio ma la funzione la zappata l'oro no no li distrugio guarda guarda sta correndo da solo perchè c'hai bug e queste versioni di Minecraft che escono io questo video lo chiamerei creeper di merda lo mino sto viaggendo verso l'ignote in questa caverna a trovare carbone come se fosse terra un po' ma con la carne macchia non ci fa nulla si te la manci a volte ti avvede a volte ti è disgustoso perchè ti avverino pure non sa e' il cibo di poveri quindi e' il cibo che ci toccherà fra poco fa tutti perché c'è il buon salvia la piccola spada la muscolta buon la parata è più veloce rispetto a quella di per scavare la pietra normale poi lo sa col carbone e si rompe la pietra di quindi tutto beh almeno falso dovere non rompe voglio proprio 32 le pietre se qualcuno vorrebbe dare una mano a scendere vabbè faccia tp ma qui c'è la legge della della miniera cioè che se ti perdi sei morto mi sono teletrasportato da me stesso fighissimo vai la super lag eccomi qui ah non è attratto le scale le stai facendo te no l'inizio non non poi ho fatto io un po' allora scappiamo per l'ingio vai ti allargo un po' allarga le gambe allora ho trovato vabbè simili di zucca che non servono niente però ci serve il posto questo si dai ci servirà per fare ah no l'alcanza che c'è il piccolo posto cosa parlate eh dell'arresto da vedere cosa si dai io non è che sono cosìabile vabbè ci sa ci sa che qualcosina ci sa fare un po' la prova che è più utile in cascosa che è più utile in un server multiplayer però almeno allora quanti scommetti che qui c'è la lava eh non c'è aia eh io ho un'ultima un po' ne applicate di schiena ragazzi ragazzi la miniera più povera del mondo mi sembra di stare scavando ma di ferro ce n'è molto però al ferro hai capito c'è un po' ho perduto ferro guarda la spalle vediamo la scuola mi stavo per dire anche sì le mani col ferro vabbè farà matura tua fai la spalla di ferro basta che fai io voglio diamanti al ferro alto ferro ragazzi questo altro arresto ma non finito un altro per averlo è facile facciamo i miei nerd per le classiche vediamo molto e li troviamo la fine è solo che capito non c'è stata voglia altro ferro metodo sette rumori di lava se vogliamo andare alla fine sette rumori di lava che da qualche parte è l'intero città non c'è ma chi c'è quelle qui quelle rocce che non ti rubano ecco si è vero l'interno città città non c'è la lava qualcosa di molto più bruciante perchè ti sei seppertutto guardate 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 allora esce di lì dobbiamo fare uno scava scavatatico intanto lo facevo con la lava che lo fanno con la lava scava 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 sicuro la rara la rara la rara la città cristo un po' di moglie ma vaffanculo dio no no teletrasporto da noi vedi video no 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 fotti marini cristo maracroco tutto std riti arriva aspetta v v forse per i pensare nella caverna che ci sta sopra voglio penetrare capito rite ecco ai non ci piazzare così che non ha perso tutto porto mi mi ha detto qualcosa per scavare non so sto scavando per il biscotto il futuro rischio di io ma ora vedi su ma la fatta venire in casa faccia mangiare tutta no no best qui ci dovrebbe essere la rava ecco un po' di legno cibo ma vuole essere il legno eh sicuro mi vengono 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 non ci sta una piglia per poter cosa poi anche un po' di 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 proviamo a scavare qui eh vabbè vaffanculo ma forse ci sta una caverna di su sì ci dovrebbe essere una caverna si 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 ho trovato una caverna di fuori di culo però attenti dove andate perchè si cascate via alla fine eh marra madame madame occio ecco ma porco cristo oh ci sta del ferro buono 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 non fare scherzi buono 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 non fare scherzi buono 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 bu Grazie.